buongiorno è il 21 novembre 2020 e le aquile si radunano insieme la lettera del fratello joseph brana dal tabernacolo brana cara sposa e deità che parla mentre il mondo è in uno stato di confusione panico e ansietà la sposa sta ascoltando quella voce nelle nostre case le nostre chiese le nostre macchine andando in giro con piccoli tubi nelle nostre orecchie mentre il suo messaggero ci dice che dio sta guardando giù su di noi dalla cima delle rupi non in qualche valle vedendo i nostri punti peggiori e condannandoci ma vedendoci come egli vuole vederci alla sommità del suo amore e misericordia siamo da soli con lui dicendogli che non ci serve consiglio da qualche concilio abbiamo il così dice il signore in mezzo a noi prenderemo posizione come giosuè e caleb stiamo arrivando in vista della nostra terra promessa come loro fecero in quel giorno egli ci ha detto che giosuè significa jehova salvatore e rappresenta la guida del tempo della fine che verrà alla chiesa come anche paolo venne come guida originale noi rappresentiamo caleb coloro che rimassero fedeli con giosuè giosuè era un profeta mandato da dio dio pose tutta la guida nelle mani di giosuè perché lui era rimasto con la parola dia poteva aver fiducia di giosuè ma non negli altri e gli disse che si ripeterà in questo giorno della fine lo stesso problema le stesse pressioni egli continua a dirci quanto attenta deve essere la sposa in ogni epoca per rimanere con quella parola e con colui che dio posiziona per essere la vera guida consacrata e rivendicata per il nostro giorno dite che sia lo spirito santo quello è corretto ma dio ha promesso in quest'ultima epoca che ci avrebbe mandato il suo settimo angelo messaggero per guidare il suo popolo proprio come fece ai giorni di mosè proprio come gli fece in ogni epoca dio non cambia mai il suo programma rimane sempre lo stesso ora qui riceviamo un avvertimento scritturale non fu nei giorni in cui dio rivendicò mosè che corre sorse contrasto quel potente profeta lui disputò con mosè e affermò di avere altrettanto da dio per guidare le persone e che altri condividevano la rivelazione divina tanto quanto mosè lui rinnegò l'autorità di mosè oggi quello spirito dice non puoi credere ad ogni parola sui nastri sei fuori della parola se credi quello c'è differenza tra la bibbia e nastri qui devo proprio dire che siamo come gli efessini in passato noi conosciamo la parola che il fratello brana ci ha insegnato crediamo ad ogni parola che ci ha insegnato non sono le sue parole ma le parole di dio pronunciate attraverso di lui proprio come paolo guardavano negli occhi quei falsi postoli e dicevano tu non stai dicendo ciò che ha detto paolo tu sei quindi falso quello infiamma il mio cuore tornate alla parola non siete veramente voi che mettete la prova l'apostolo è il profeta e l'insegnante è la parola che gli mette la prova uno di questi giorni verrà un profeta per l'epoca della chiesa di l'odicea e saprete se egli è quello vero venuto da dio o meno sì lo saprete perché se lui viene da dio egli sarà in quella parola esattamente come dio la diede a paolo lui non devierà da quella parola per un momento neanche di uno iota in quest'ultima epoca quando ci saranno molti falsi profeti che appariranno osservate vedete come continuano a dirvi che se non credete a loro e ciò che loro dicono sarete perduti ma quando quel profeta dell'ultimo giorno verrà sulla scena se lui sarà davvero quel profeta lui griderà tornate alla parola o siete perduti lui non edificherà su una rivelazione o interpretazione personale ma sulla parola amen e amen quindi qual è la parola per il nostro giorno solo la bibbia e non i nastri ora paolo lo stava dicendo sul suo auditorio ebreo ora loro non avevano registratori come noi abbiamo qui oggi ma avevano scribi che erano seduti là lo annotavano proprio come paolo lo predicava e questo è ciò che avviene proprio qui lo stiamo facendo tramite registratori e questi nastri vanno in tutto il mondo vedete per mostrare che ciò è la verità la nostra religione non è vana esse assolutamente gesù cristo risorto la stessa cosa ora non dobbiamo ignorarlo questo l'ha detto il fratello brana l'uno settembre del 1957 nella predicazione ebrei capitolo 3 eccolo là finché tutti lo leggono e ascoltino come fecero i giorni di paolo quando avevano solo scribi oggi noi stiamo ricevendo quella stessa parola tramite registratori quanto possono essere c'è che mancanti di rivelazione poiché noi crediamo ad ogni parola e stiamo diventando quella sposa parola pienamente manifestata che egli ha promesso sarebbe arrivata siamo carne della sua carne ossa delle sue ossa spirito del suo spirito siamo la sua sposa parola che produrrà le stesse opere che produsse gesù quando un uomo nato dallo spirito riempito di spirito prende in fede quella parola nel suo cuore e la pone sulle sue labbra ebbene quella è la deità stessa che parla ogni monte deve spostarsi satana non può resistere davanti a quell'uomo in che tempo meraviglioso stiamo vivendo siamo calmi rilassati e senza timore ogni monte deve spostarsi satana non può resistere davanti a noi dio ci sta parlando dicendoci con ogni messaggio che sentiamo come noi siamo quella parola vivente che è stata predetta di venire durante queste epoche della chiesa se vuoi ricevere le più grandi benedizioni di ogni tempo sentire la più grande rivelazione che sia mai stata detta fin dalla fondazione del mondo unisciti a noi domenica alle 2 orario di jeffersonville per ascoltare l'epoca della chiesa di pergamo 60 frattino 1207 fratello joseph brana questo conclude la lettera del fratello joseph brana dal tabernacolo brana di jefferson villiana e le scritture da leggere in preparazione prima di ascoltare il sermone l'epoca della chiesa di pergamo sono numeri 23 versetto 8 e 9 apocalisse 2 versetti dal 12 a 17 capitolo 17 dall 1 a 5 e capitolo 17 versetto 15 fino alla prossima volta che dio vi benedica e vi incontrerò domani insieme intorno al mondo alle 2 orario 2 di jeffersonville non posso riuscire ad aspettare quasi che dio vi benedica a Grazie a tutti.